Uè, non fare il pollo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio nuovo codice CREATOR. Clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci XIUDERONE. DAIE! Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi, mamma mia, nel video di oggi abbiamo delle informazioni davvero super interessanti per quello che riguarda la nuova skin Iconic, quella ragazzi che si potrà ottenere solo, sembrerebbe, con l'acquisto di un nuovo S10 Plus, ma probabilmente ci sono alcune vie che io sconsiglio di utilizzare che però potrebbero farvela ottenere in maniera totalmente gratuita, a vostro rischio! Quindi attenzione, parleremo anche ragazzi della nuova copertura che non è ancora stata rilasciata, parlo della skin per armi e veicoli e ovviamente insieme ad un bel po' di leaks, di cui vi voglio parlare anche i dati dell'evento Marshmallow, ci saranno ovviamente le Terremoto News. Intanto vi ringrazio tantissimo per esservi iscritti al canale anche oggi e soprattutto grazie a tutti quelli che utilizzano il mio codice creator XIUDERONE, grandi, grandi e grazie mille per il supporto! Ma prima ragazzi, ve la devo fare ragazzi, la domandina, oggi è molto interessante ragazzi, la domanda è davvero super semplice, quale copertura ti piace di più? Non necessariamente tra queste quattro, in generale, qual è la più la tua preferita? La mia ragazzi, a me piace tantissimo quella che è la hot and cold, quindi quella che parte dal rosso e diventa blu metallizzato, veramente molto molto bella. Voi ragazzi invece qua sotto nei commenti ditemi qual è la vostra preferita e se c'è anche un motivo particolare. Ma quindi, ciancio alle bande e bando alle ciance, andiamo subito subito a parlare della copertura ancora non rilasciata, ma presente già nei file di gioco. Potrebbe anche essere nello shop di ieri notte, il video registrato prima dello shop, ma ragazzi la cosa, se vi interessa, a parte l'astrattismo della copertura, molto molto carino, che ho un video che ve la mostra, la volete vedere? Ve la faccio vedere ragazzi, ve la faccio vedere. Eccola qua ragazzi, ci mostra il nostro amico FNBR Unrelease, un leakers americano, la nuova copertura utilizzata già sulle armi. Molto carina ragazzi, devo ammettere che un bel colore, molto carnevalesco come colore, se devo essere sincero, mi piace e mi piace davvero tanto, colori accesi, vivaci e sapete che io ho un debole ragazzi per le coperture, quindi non perderò l'occasione ovviamente di ottenerla. Ma andiamo avanti ragazzi e parliamo dell'argomento che tutti vogliamo sapere, la skin iconic. L'abbiamo già vista nel video di ieri, ne avrete già sicuramente sentito parlare un po' in giro. Eccola proprio qua, la skin che verrà data, a costo zero, solo a chi acquista un Samsung S10+. Allora, ci sono tre modi, io vi sconsiglio di fare quello che vi sto dicendo. Attenzione! Ci sono tre modi per poterla ottenere, sembrerebbe in maniera totalmente gratuita. Due modi sono fattibili, uno è veramente molto pericoloso. Oggi voglio parlarvi del modo più semplice, quello che abbiamo visto anche questa estate. Cosa dovete fare ragazzi? Allora, vi faccio vedere, vi faccio vedere. Andiamo direttamente ragazzi a dare un'occhiata alla pagina di Google principale. Ok, siamo su Google. Da Google andiamo sul sito di Samsung. Ok, questo è il sito di Samsung Italia. Cosa dovete fare? Dovete ragazzi, già c'è già la pubblicità gigante del Samsung. Dovete creare un account. Quindi, facciamo una cosa che così vi faccio vedere anche il mio cursore. Eccolo qua il mio cursore. Cliccate sulla faccia ad aprirla qua. Registrati. Ok. Spuntiamo tutti. Va, questo possiamo anche non spuntarla. Facciamo che spuntiamo tutto, tanto non ce ne frega. Dobbiamo creare un account. Quindi, voi lì inserirete la vostra email. Io inserisco via le mani dal culo. Chiocciola. Aspetta, ho sbagliato a scrivere. Via le mani dal culo. Chiocciola.gmail.com Password. Via le mani dal culo. È ipotetica, raga. Non è vero. Deve contenere 8 caratteri. Ma via le mani dal culo 1. Ok. Oh, che palle. Culo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma sì. Ma che cosa sta... Allora. Culo 1, 5, 9. Ok, perfetto. Ma però va a cagare. 8, 7. 1, 5, 9, 8, 7. Ok. Raga, non ci credo. Non riesco a fare la password. Culo 1, 4, 7, 9, 5. 1, 4, 7, 9, 5. Culo 1, 4, 7, 9, 5. È fatta a caso. Nome. Via le mani. Cognome. Culo. Ovviamente. Giorno 1, mese gennaio, anno 1980. Ah, porca miseria. Partono gli outro. Partono gli outro quando faccio queste cose. Dite di non essere un robot. E clicchiamo avanti. In questo modo, ragazzi, noi abbiamo creato il nostro account Samsung. Cosa dobbiamo fare? Una volta che sarà arrivata sulla nostra mail la possibilità di attivare l'account Samsung, ci segniamo da qualche parte la mail e la password. In questo modo, ragazzi, quando andremo a vedere nello store dove sarà esposto il Samsung, dovremo accedere direttamente con il nostro indirizzo mail, il nostro profilo appena creato. In questo modo, scaricate Fortnite, loggate col vostro account e in quel momento dovrebbe, in teoria, essere disponibile nello shop, quindi proprio, non nello shop, nel negozio, quello dove ci sono i V-Bucks da comprare con i soldi, la skin Iconic. E quindi ci tappate sopra e potrete scaricarla. Ve lo rispiegarò con calma questo metodo quando verrà rilasciato. È un metodo che potenzialmente, a meno che non blindano i codici seriali dei telefoni, funziona come è funzionato la prima settimana per la skin Galaxy. Quindi, ragazzi, mi raccomando, non fatelo. Ok? Andiamo avanti, ragazzi, e parliamo invece di quello che potrebbe essere la nuova season 8. Oramai manca a meno di una settimana, ma arriva direttamente nella pagina Twitter ufficiale di Fortnite un post relativo alla modalità creativa a una nuova isola che però, porco Giuda, sembrerebbe spoilerare violentemente il tema della stagione 8. Ne avevamo già parlato, lo stiamo già immaginando tutti, potrebbe esserci l'acqua. E le skin presenti in questa immagine, che sono i due sub, beh, non fanno altro che rafforzare la nostra teoria. Un grande hype per questa season 8 che non vedo l'ora di vedere. Se voi avete voglia di dirmi qual è secondo voi il tema della prossima season, ditemelo qua nei commenti. Prima di salutarci però, ragazzi, ve lo devo dire, la curiosità è sicuramente grande, l'evento Marshmallow. Sono stati resi pubblici da poche ore i dati sull'utenza di chi ha guardato contemporaneamente l'evento Marshmallow. Beh, ragazzi, e sono state 10,7 milioni di persone contemporaneamente in tutto il mondo. Quindi, ragazzi, un record che ha distrutto qualsiasi altro concetto di evento in un gioco, in un videogioco che non facesse parte del videogioco. Beh, ragazzi, io per oggi le news ve le ho dette. Vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video. Mi raccomando, iscrivetevi in tanti al canale. Non sono riuscito a farvi vedere la terremoto news. Comunque, ragazzi, la crepa numero 11 si è formata in basso alla mappa. La rivedremo bene domani. Vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo alle 13 live. Ciao! Ciao!